Sono un'emigrata italiana. Faccio parte degli Spaghetti Fraser e in questi 22 anni che sono qui a Differdange non mi sono mai dimenticata la mia terra. C'è un tunnel lungo e scuro che mi separa da lei. È la forma di una balena. E quando lo passi per venire qua su non sai mai se lo ripasserai di nuovo per tornare da te. Tu lo stai cattarnando? Sì sì ma in Lussemburgo non mi chiamano Ferni e anche Fernand. E se io ti chiamassi Nando? E Nando si chiama già papà. Va bene Ferni un bacio dalla nonna. A Lussemburgo mi chiamano Clodi e anche Clun. Ma io preferisco Clodi. Ah bravissimo insomma lo stesso nome del nonno. Un bacione anche a te. Bevibile. Che cazzo bevibile. Con queste parolacce. Questo vino è divino. Sento la nostalgia di un passato dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare casetta mia. In quella canta stella dalla mia serenata la canto per te. Un bacione. Buongiorno. 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 Non è buono. Non è buono. Non è buono. Non è buono. E secondo te, papà, chi vencerà il Tour de France? Charlie. Oh, è Charlie. Charlie è un borghese. Non può vencere un gay scampo. Chi era tu, ragazzi? Charlie! Charlie! Vito! 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 Dai! Dai!